Ben trovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Questa sera ospite in studio con noi è il sindaco di Cuerovas, Bruno Zanolla, che saluto e ringrazio per essere qui. Ben trovato sindaco. Grazie a voi. Tanti argomenti di cui parlare. Sindaco, ovviamente partiamo dalla questione coronavirus, facciamo una fotografia di quello che è stato e di quello che è. Credo che noi siamo stati fortunati, perché alla fine abbiamo avuto pochissimi casi, 15 in tutto. Attualmente, finalmente, anche quella famiglia che ha avuto quel problema, che ha avuto un contagio che è durato per più di 70 giorni, si è risolto, quindi attualmente siamo privi di contagi e quindi mi pare che sia estremamente positivo. Devo dire che anche i nostri cittadini sono stati molti ligi e abbiamo cercato di informare tempestivamente tutti e quindi c'è stato un lavoro di squadra fatta con le forze di loro, ma soprattutto con la comunità che ha risposto un po' ovunque da noi. hanno immediatamente accolto quelle che erano le indicazioni, per cui credo che sia tanto merito anche della collaborazione dei cittadini, perché non sono stati momenti semplici in nessun comune, notizie contrastanti, ordinanze che uscivano a mezzanotte, aziende che avevano bisogno di capire cosa fare, quindi siamo stati a fronte tutti, giorno e notte, però devo dire che c'è stata una risposta eccellente da parte della comunità e di questo va dato atto e quindi i meriti sono anche loro. Certo, è adesso questa nuova fase in cui siamo anche dal punto di vista delle imprese, l'economia, qual è la situazione? In qualche maniera si è ripartiti, però è chiaro che molti mercati sono fermi, perché ovviamente i mercati internazionali, pensiamo all'America, cosa sorbe per le nostre aziende in tutti gli ambiti, non essendo ancora ripartita, poi ci sono tutti i magazzini da svuotare, quindi non sono momenti semplici, devo dire che anche le azioni governative sono spesso state confuse e non incisive come hanno fatto altri paesi, noi come sindaci abbiamo rivendicato fin dall'inizio, fate i contributi a fondo perduto, non se ne è parlato, in Germania, in Svizzera io ho molti colleghi, amici imprenditori nel giro di una settimana hanno avuto i fondi in cassa senza parlare tanto, noi abbiamo detto di tutto, il contrario di tutto, ma devo dire che insomma un conto sono le promesse e gli annunci, diversa è l'operatività che ancora in molti casi non sono stati allargiti i fondi, le aziende devono fare un sacco di carte, lì funzionava con un modulo, l'e-bank verificava la partita IVA e dopo due giorni, una settimana al massimo avevi i fondi e credo che un'emergenza così vada affrontato con questo metodo, non con i proclami, io non voglio essere polemico, però realista sì, non è che si può sottacere quelle che sono state secondo me delle sottovalutazioni che ha messo in difficoltà molta gente, insomma soprattutto anche le aziende, i piccoli imprenditori, i commercianti che non hanno bisogno di prestiti, hanno bisogno di fondi immediati per continuare a tenere in piedi l'attività. Adesso siamo partiti, è chiaro che le difficoltà ci sono, ci sono settori che sono riusciti e che hanno fatto anche una fortuna in questo, ma sono, come dire, mosche in bianche, la situazione è un po' difficile e credo che non si esaurirà neanche velocemente, insomma, quindi purtroppo io sono un ottimista di natura, però sono anche realista, quindi non si esclude appunto la possibile nuova ondata e quindi bisogna… Il contagio è proprio la situazione economica che non è per nulla brillante e quindi quando siamo in autunno vedremo gli effetti veri di tutta questa situazione, quindi io mi auguro solo che dal punto di vista governativo ci sia il sostegno annunciato, in una parola ma nei fatti. Ecco, in questo comunque va dato atto che ci sono degli imprenditori che si sono reinventati anche nel suo comune. Beh, noi siamo, come dire, veneti e quindi in tutto il Veneto si è visto di tutto, no? Non solo, voglio dire, dal punto di vista dell'imprenditoria ma anche un po' delle singolari iniziative che molti hanno messo in atto in questo periodo e quindi anche l'ironia stessa nel prendere le cose con una certa filosofia sicuramente ha aiutato tutto, ma devo dire che anche l'imprenditoria anche da noi in alcuni casi ha cercato di trovare soluzioni o seguire in base a quello che faceva, riconvertire alcune linee per, non so, creare i distributori piuttosto che sistemi di protezione, piuttosto che un supporto concreto nell'ambito operativo di determinate attività e quindi un plauso perché anche da questo punto di vista non bisogna mai star fermi, cercare di cogliere in ogni aspetto e anche nelle difficoltà ci sono sempre degli elementi positivi, l'importante è non sedersi e quindi un grande bocca al lupo a tutti, soprattutto anche agli imprenditori che sono una forza della nostra comunità, della nostra società a cui va tutto il nostro appoggio. Senta Sindaco, il Comune è stato vicino comunque alla collettività anche in questo momento di emergenza, c'era la questione dei buoni spesa, no? Sì, non solo, noi abbiamo avuto anche diversi imprenditori che in maniera molto silente si sono fatti avanti e hanno messo a disposizione risorse e anche cose concrete e di questo li ringrazio anche perché hanno voluto rimanere nell'anno minimato assoluto e quindi ci ha consentito anche di far fronte a delle situazioni particolarmente critiche segnalate dai servizi sociali. Il governo aveva stanzato per noi circa 20 mila Euro che sono andati bruciati in un attimo, anche perché noi abbiamo un tessuto economico e sociale che è buono da un certo punto di vista, ma con una presenza anche di lavoratori e quant'altro, magari anche provenienti da altri paesi e che naturalmente, ma non solo, anche molti concittadini nostri hanno avuto delle difficoltà e quindi si è cercato di andare incontro un po' a tutti, anche lì la confusione è stata completa perché gli annunci governativi fatti alla sera non noi manco sappiamo dei fondi che avevamo a disposizione come procedere, poi devo dire che l'annuncio è sempre stato tutto semplice, poi in realtà la gestione è tutt'altro che semplice, per cui sta cosa qua ha creato non poche problematiche, perché la gente si aspettava l'immediata possibilità di avere, invece devi seguire le procedure previste dalla norma, quindi fare il bando, come giusto che sia, ma è questo che secondo me alle volte c'è una discrasia profonda da chi pensa e da chi poi attua, e devo dire che tutti i comuni, insomma nel Fettrino abbiamo fatto anche un raccordo in modo di cercare di uniformare, perché sennò ognuno si inventava di tutto, quindi un lavoro preparatorio, ma tutto fatto in velocità e quindi siamo usciti più o meno tutti con i stessi mani, anche qua gli uffici hanno fatto un lavoro enorme di analisi e poi di elargizione che si basava ovviamente sull'autodichiarazione e quindi io spero che tutti abbiano fatto come, abbiano dichiarato quello che era corretto dichiarare in modo che poi quando ci saranno i controlli non ci siano sorprese. Certo, ma questo fa capire anche quanto difficile a volte è proprio fare il ruolo dell'amministratore, comunque della persona che deve riuscire, non lo capisce, non è che puoi decidere con i soldi pubblici come fossero soldi tuoi, quindi ci sono le procedure e questo comporta purtroppo, io mi sarei aspettato a livello governativo un'azione piuttosto di semplificazione, non solo annunciata ma reale, ma che ad oggi non c'è stata. E sappiamo appunto il problema della burocrazia che insomma attanaglia il sistema paese, se ne parla tanto anche in questi giorni. No, io dico sempre, guarda ogni volta che viene annunciata una semplificazione, in questa mia non breve storia amministrativa le cose si sono complicate, quindi spero veramente che se finisca di annunciare si faccia. E che ci sia una svolta. Senta Sindaco, prima di parlare del turismo io vorrei che facessimo una riflessione assieme con lei anche sul ruolo che ha avuto tutto il mondo del volontariato, anche per la gestione di questa fase più critica di quella che è passata l'emergenza. Si è rilevato come tu giustamente sottolini, se mai ce ne fosse stato bisogno, come una risorsa vitale della nostra, di tutte le comunità insomma, ma della nostra in particolare. E lì abbiamo avuto la protezione civile che ha fatto di tutto, nel senso che dalle consegne a domicilio, ai via consegne dei buoni, a tutta l'elargizione e la consegna delle mascherine, all'inizio anche quello è stato veramente un lavoro difficilissimo, casa per casa, imbustate, per consegnare un primo presidio minimo perché non si trovava nulla e consentire almeno di uscire in attimo dalle proprie porte. E quindi insomma veramente un lavoro, imane il silenzio anche quello, ore e ore, giorni uomo, di messa gratuitamente a disposizione, quindi anche loro va a nostro, veramente grazie di cuore perché si sono rivelati ancora una volta indispensabili. L'altro punto era la questione invece del turismo, adesso siamo in vista dell'estate insomma in questa fase 3, com'è il turismo per il suo territorio, su che cosa punta? Beh noi chiaramente siamo come dire collocati al confine tra la provincia, non è che possiamo pensare a un turismo di massa, ma abbiamo sempre cercato di investire in quello che è un turismo soft, anche giornaliero o comunque con un certo tipo di offerta particolare, penso a tutta l'area di Vaz, al parco del Piave, alla cartiera che è stata uno degli elementi anche dal punto di vista culturale di sviluppo che è stata avviata bene, è chiaro che adesso ha avuto un piccolo stop, ma insomma si ripartirà e poi invece per quello che riguarda il comune di Quero, tutta la valle di Schiavenin e tutti i nostri sentieri, le prealpi del Grappa e poi anche del DOC dall'altra parte, quindi c'è tutta una rete di sentieri, di strade silvopastorali che si possono fare in bicicletta a piedi e vedo che già in questi giorni, parlavo giusto con la mia assessora dedicata al turismo anche dalla valle di Schiavenin, che in questi giorni c'è stato veramente un afflussimato, quindi la gente sta anche riscoprendo, quindi questo è un elemento anche positivo di tutta questa vicenda, perché riscopre il proprio territorio, tutta gente che non abbiamo mai visto in zona del Trevigiano, del Vicentino, ma che vengono anche distanti, proprio per godersi l'aria aperta, il nostro ambiente, quindi noi stiamo anche accelerando adesso, visto che si è potuto ripartire con i cantieri, col completamento delle aree dedicate all'ospitalità e faremo un bando brevissimo per l'assegnazione della casa per ferie a Schiavenin, che nell'ex scuola, struttura splendida in fase di ultimazione e credo che insomma avrà un buon successo anche quello, perché vedo che c'è dinamismo e anche voglia di fare, quindi questo è sicuramente un aspetto anche interessante di tutta questa vicenda. E per far ripartire comunque anche l'economia, perché sappiamo insomma 65 mila sono i posti che si sono persi in Veneto, 35 mila dei quasi erano proprio per il comparto turistico, quindi è importante rimettere in moto il meccanismo. Come hanno detto tutti, facciamo vacanze italiane, che mi sembra il mio primo, e compriamo prodotti italiani, questo mi sembra un messaggio che è stato detto più volte, ma mi sento di condividerlo. Sindaco, lei parlava prima, accennava al Parco del Piave, voi avete, di Caorera, voi avete stipulato una convenzione con la locale Prologo. Sì, noi a dire il vero abbiamo convenzioni con tutte le associazioni, è partita ancora nel 2000, questa cosa nel nostro primo mandato, ormai 20 anni fa, quindi è datato, in cui abbiamo sempre cercato di coinvolgere le associazioni e ogni associazione ha in dotazione, per così dire, una parte del territorio che lo cura, lo mantiene, lo gestisce e fa anche i lavori minimi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso della Prologo di Caorera è stato anche lì stipulato, è stata assegnata l'area, è stato sistemato il parco, anche lì sono stati fatti un sacco di investimenti e credo che insomma anche quella della Prologo stesso abbia beneficiato di una serie di strutture che mette a disposizione poi dei turisti e in occasione delle manifestazioni, la più clattante è appunto la Sagra della Zucca, è sicuramente un biglietto a visita importante, ma così vale per la struttura del Prologo di Caorera, dove insomma ristrutturando la palestra sono state realizzate le cucine nuove e tutti gli aspetti, quindi c'è una sinergia un po' con tutte le associazioni del nostro territorio, ovviamente quelle che hanno un peso di un certo tipo, quelle che per loro natura magari hanno un altro tipo di operatività, ma penso anche agli alpini che hanno fatto uno splendido lavoro sul Monte Cornella, che era di due proprietari veneziani che poi abbiamo acquistato, loro lo stanno sistemando e lì abbiamo una progettualità che è il nostro prossimo obiettivo di rimettere a posto un po' tutto e creare un nostro gruppo, perché è un posto magnifico dove vedi un po' giù tutta la pianura e quindi insomma qui è una, come dire, una iniziativa partita tanto tempo fa che si consolida e tutte le nostre associazioni appunto hanno questo rapporto molto stretto con l'amministrazione, però si danno anche da fare molto, quindi curano le aree, le mantengono e soprattutto fanno vivere la comunità. Parlando invece di lavori, Sindaco c'è un'importante attività in quella di VAS che riguarda in particolar modo i giovani, giusto? Sì, noi di Cantieri ne abbiamo molti, adesso sono anche ripartiti e stanno in fase di ultimazione l'edificio Exec a Queiro dove va a sede la biblioteca, dove stiamo pensando anche a una sala polifunzionale proprio dedicata ai giovani all'ultimo piano che anche quella è una struttura, dopo lì abbiamo anche degli alloggi di emergenza per situazioni di difficoltà e quindi quella è completamente ristrutturata ormai in fase di ultimazione, per contro abbiamo la palestra delle scuole medie e del plesso scolastico di Queiro che fa sia da elementare medie che è in fase avanzata di rifacimento completo e sarà ultimata per settembre e sono partiti in questi giorni i lavori alla scuola materna di VAS, lì anche è prevista l'intera riqualificazione, l'adeguamento sismico e quindi anche uno spazio che riacquista secondo quelli che sono gli standard ormai moderni di un edificio che comunque aveva una sua storia e anche un passato del tempo che necessitava di una serie di interventi importanti e quelli sono partiti e poi abbiamo una progettualità sugli impianti sportivi molto ambiziosa e credo che insomma per fine anno avremo anche i risultati di avere finanziamento e quindi potremo il prossimo anno investire, lì è prevista l'intera riqualificazione del centro sportivo che consentirà di dare continuità alle molte associazioni che anche da fuori chiedono di venire a utilizzare le nostre strutture e quindi coinvolgono i giovani del calcetto ma non solo ma tutte le attività sportive che sono splendidamente gestite dall'associazione Astra ma anche in questo caso e in cui c'è tutta una dinamica insomma per favorire l'attività motoria, lo sport ma anche tutta l'attività per i cittadini quindi per le mamme, per le signore quindi c'è un programma di attività. Si abbracci un po' tutti ecco diciamo così il target. Esattamente, quindi è una offerta che viene fatta in loco e vedo che insomma funziona molto bene quindi ne siamo anche potenti. Ecco, venendo ancora all'aspetto dei giovani comunque sappiamo adesso le famiglie in particolar modo hanno dovuto durante il periodo dell'emergenza affrontare anche un periodo particolarmente difficile per riuscire a conciliare le esigenze della vita familiare con le esigenze lavorative magari. Come comune avete anche in questo caso cercato di offrire dei servizi che potessero adesso in questa nuova fase in cui si sta convivendo con il virus dare un supporto alle famiglie? Sì, come è la nostra tradizione insomma i centri estivi sono sempre stati organizzati e come dire anche il comune ci metteva anche un bel po' di soldi. Quest'anno è già partito quello della scuola materna quindi la scuola materna parrocchiale di Quero che fa il servizio un po' per tutto il territorio anche lì abbiamo come dire ci siamo impegnati a coprire i costi maggiori che ci sono perché ovviamente il protocollo comporta quasi più di due volte il costo di prima insomma però per non gravare sulle famiglie la quota l'assorbe il comune. Mentre per i più grandi è stato fatto un sondaggio di cui abbiamo appunto parlato nei giorni scorsi e effettivamente la domanda è stata molto bassa. Io credo questo sia dovuto principalmente perché ormai i genitori si sono anche un po' organizzati in questo periodo di difficoltà e forse anche persiste un po' di preoccupazione per alcuni. Quindi in realtà nel territorio dei due comuni c'è stata una richiesta molto bassa e quindi credo che questo non partirà perché i costi sarebbero troppo elevati per l'esico numero di adesioni che ci sono state. Però insomma è in corso di valutazione in questi giorni. Ecco. Sindaco direi che abbiamo veramente fatto una panoramica ovviamente delle tante attività ovviamente citando alcune pillole per tutte le varie iniziative che sono portate avanti nel comune ci ritroveremo comunque per approfondire anche tutto il tema dei lavori che insomma è ingente e significativo per la vita della comunità. La ringrazio per essere stato nostro ospite. Grazie a te perché vedo che insomma hai sostituito in maniera brillante Andrea che da anni gestiva questa trasmissione quindi complimenti a te. Grazie, ci si dà un aiuto. Grazie mille Sindaco. A voi tutti buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Si voleva. Grazie a te.